Siamo allo stand di Kelliker, al mio fianco abbiamo Luciano Jengo che è il direttore marketing del gruppo, un gruppo che presenta molte novità su questo palcoscenico del Transpotec. Sì, qui al Transpotec presentiamo la gamma Maxus, una gamma importante. Maxus è il marchio dei veicoli commerciali del gruppo Cycmotor, uno dei gruppi leader al mondo per produzione e vendita di vetture e di veicoli commerciali. E qui al Transpotec presentiamo l'intera gamma di furgone piccolo, medio, grande, disponibili sia nelle motorizzazioni full electric che nelle motorizzazioni diesel. Alle nostre spalle abbiamo anche una novità presentata proprio in anteprima qua a Milano. Sì, abbiamo il nuovo E-Deliver 5 che presentiamo in anteprima europea assoluta, il nuovo furgone piccolo che si propone sin da subito sul mercato come leader del proprio segmento. Innanzitutto per il suo design moderno, innovativo e assolutamente attrattivo e poi per una dotazione di serie di primissimo livello. In termini di comfort e di sicurezza è un mezzo che sarà dotato di serie di tre posti in cabina, di un touchscreen da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e con Android, di funzionalità come il sedile e il volante riscaldabile per offrire il massimo comfort al conducente. Ma anche in termini di funzionalità la doppia porta scorrevole laterale per consentire il carico e scarico in qualunque condizione di parcheggio e in termini di portata, grazie al fatto che l'E-D5 sarà l'unico mezzo del suo segmento ad avere anche una versione L2-H2, arriviamo fino a 7,6 metri cubi di volume e 1200 kg di portata che ne danno una capacità di carico da assoluto leader.